Buonasera dalla sede del Cus Castino che è da 84, abbiamo qui il portiere Claudio Panzarini. Buonasera. Buonasera. Siete arrivati a fine campionato i primi in classifica e ora vi trovate pre-off, come mai? Sinceramente noi non ci aspettavamo questo risultato molto soddisfacente, è già da qualche anno però che facciamo dei buoni risultati anche in trasferta e quest'anno abbiamo consolidato questa esperienza che abbiamo maturato in questi ultimi tempi, visto che la squadra comunque è composta da giovani che vanno dai 15 ai 16, 17, 20, 21 anni, è motivo di orgoglio arrivare a questa fase del campionato o primi in classifica. Siamo a pari punti con il Guardiagrele, solo che abbiamo 4 reti di differenza in più a loro e quindi siamo matematicamente primi. E come vi state preparando a questa prima giornata di pre-off contro il Guardiagrele? I pre-off sono già iniziati la settimana scorsa, il Guardiagrele ha giocato contro la Roma Trionfale e già ha vinto. Adesso verrà qui in trasferta e sicuramente non troverà del terreno fertile per vincere, perché noi siamo determinati, vogliamo comunque conquistarci il primo posto. Avrete bisogno di un grande pubblico allora? E questo è proprio l'appello che voglio fare a tutti gli appassionati e non della palla a mano, perché ci serviranno sicuramente molte persone ad assistere a vedere proprio questa partita e di incoraggiarci ancora di più. Diamo un appuntamento, diamo un appuntamento. Allora, sabato 26 a ore 17.30 alla struttura giovedere di Caricaeta. Ok, grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.